Promuovere la professionalità e le conoscenze scientifiche dei dermatologi e migliorare la loro comunicazione con i pazienti. Sono stati questi i due obiettivi che hanno ispirato e guidato la partnership tra Sidemast e Leofarma, un'alleanza che si è protratta per ben sei anni e che si conclude quest'anno dopo aver realizzato iniziative di alta qualità formativa per i giovani specializzanti in dermatologia. ha promosso la diffusione delle nuove conoscenze scientifiche nell'ambito del trattamento delle patologie cutanee e migliorato il dialogo tra dermatologi e pazienti. La collaborazione che si è sviluppata in questi ultimi sei anni tra la Sidemast e Leofarma, impegnata da sempre in campo dermatologico, è stata fondamentale, dichiara Pier Giacomo Calzavara Pinton, presidente Sidemast. Una collaborazione incondizionata, cioè priva di interessi commerciali come deve essere secondo il codice etico che le stesse aziende si sono date, può anche dare risultati di questo tipo, cioè puntare sulla formazione di giovani medici nel loro percorso che possono così confrontarsi con le realtà cliniche migliori che stanno nel nostro paese. È stato un percorso significativo. Sei anni fa nasceva Leofarma Italia come start-up e sei anni fa abbiamo iniziato a sponsorizzare e a supportare questo evento di formazione rivolta ai giovani. È stato un percorso che si conclude qua, ma penso che non sia finita. Per Leofarma Italia è fondamentale essere il punto di riferimento per la specialità dermatologica. Sappiate che continueremo ad investire in quelle che sono le patologie della pelle, assicurando quella che è l'innovazione per i pazienti che ne hanno bisogno. Quindi è un percorso che continua, è un percorso di cui io sono stato orgoglioso di prendere quello che è l'eredità che è nata sei anni fa. Leofarma è nata, come dicevo, sei anni fa come start-up, diciamo che ora è una realtà solida, ha portato sul mercato variati prodotti, continuo ad investire in ricerca ed innovazione. Nell'ultimo triennio, dal 13 al 15, ha investito circa 80 milioni di euro. Io sono felice di rinnovare l'impegno perché nei prossimi tre anni continueremo ad investire. Sono disponibili 70 milioni di euro, di cui tre dedicati alla ricerca e sviluppo. Tanti i progressi terapeutici registrati in questi anni per alcune delle più importanti malattie dermatologiche come psoriasi, cheratosiattinica, melanoma, delle quali si è ampiamente discusso di volta in volta nelle varie edizioni del congresso SIDEMAST. La pelle ha più patologie di qualunque altro organo è apparato. Direi che la somma delle patologie della pelle è pari a quella di tutte le patologie degli altri organi. Possiamo pensare che almeno una volta nella vita tutte le persone soffrano di un qualche problema cutaneo e che sia poi infiammatorio, infettivo, tumorale. E questo quindi comporta la necessità che il dermatologo, lo specialista, sia assolutamente preparato e conosca tutto lo spettro delle possibili alternative. Anche perché è un errore diagnostico-terapeutico nelle malattie della pelle con la frequenza che hanno amplificherebbe moltissimo la spesa sanitaria e l'impatto sulla vita della persona. Teniamo presente che qualunque altra patologia può essere nascosta, in qualche modo, una patologia cutanea non può essere nascosta. Quindi al di là dei sintomi che spesso crea prurito, dolore, bruciore e quant'altro, che già di per sé sono gravemente lesivi della qualità della vita, c'è anche il problema che la malattia della pelle ti pone il problema della relazione con l'altro. E' per questo che tutte le malattie della pelle sono così distruenti. Una malattia della pelle, per esempio, molto frequente, che è la psoriasi, si è dimostrato che rovina la qualità della vita più che molte patologie tumorali, piuttosto che patologie cardiovascolari, piuttosto che patologie neurologiche.